Si ha chiesto un'ulteriore dilazione, il Sindaco però in passato ha già detto che non si può fare la dilazione della dilazione. Allora voglio dire ai miei colleghi politici che quando si fanno le proposte innanzitutto si deve vedere se legalmente queste proposte possono essere praticabili. Anche noi abbiamo interesse che i cittadini non vengano sopraffatti dalle tasse, però voglio ricordare a questi colleghi che in virtù di un regolamento comunale fatto nel 2013 dalla precedente amministrazione si è disposto una dilazione di un accondo con un saldo. Siccome in base alla legge e al regolamento che è stato approvato dal Consiglio comunale non si può fare una dilazione di un saldo e quindi rateizzare il saldo, certamente il Sindaco non può dire che si possono fare delle rate quando delle rate non si possono fare. Però abbiamo dato anche disponibilità a tenere in considerazione una necessità nel fare queste delazioni che faranno motu propri i cittadini, dopo non saranno gravate né da interessi né d'amore. Passiamo al lato, adesso un po' tutti chiedono che la futura gestione delle spazzature nel Vado di Diano siano gestite dai comuni del Vado di Diano, qualcuno paventa il rischio CONSAC 2, quindi con un aumento delle tariffe gestito per giunta da enti esterni al Vado di Diano. Qual è la sua posizione e qual è la posizione dell'amministrazione di saldo? E' inutile che facciamo speculazioni politiche, la verità è che lato è una legge regionale dove si stabilisce che prima si costituisce l'ambito territoriale omogeneo approvando uno schema di convenzione che è stato approvato dal Consiglio regionale e del legge regionale, dopo si inizia a discutere dei sottoambiti. E' un discorso politico talmente grande che i nuovi politici di turno non possono risolvere convocando i sindaci del Vado di Diano che già sono impotenti rispetto a 166 comuni, credo di essere stato chiaro.